Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo uno della folla disse a Gesù Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante Egli ragionava tra sé Che farò? Poiché non ho dove mettere i tuoi miei raccolti Farò così, disse Demolerò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi E vi raccoglierò tutto il grano e tutti i miei beni Poi dirò a me stesso, anima mia Hai a disposizione molti beni per molti anni Riposati, mangia, bevi e divertiti Ma Dio gli disse, stolto Questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé E non si arricchisce presso Dio Oggi ci viene servito un brano di parola di Dio Un brano di Vangelo nudo e crudo Che ci tocca dal vivo Su ciò che riguarda i nostri beni C'è un caso concreto Questo uomo che chiede a Gesù aiuto Per questioni di eredità E non è cambiato niente Da quel tempo ad oggi Quante volte l'eredità, i soldi Dividono famiglie Lacerano relazioni Per decenni Per tanto tempo E anziché costruire Qualcosa di grande E di bello Gesù mette in guardia Che i beni Non sono il bene I beni possono fare bene Ma non sono il bene E racconta la parabola di questo uomo Dove tutto ruota attorno Al pronome possessivo Mio Miei granai Miei raccolti Miei magazzini Anima mia Tutto è rivolto verso di sé Tutto è rivolto verso di lui Lui è il centro di ogni cosa E c'è l'ammonimento finale di Gesù Stolto Questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita Stolto non è Un ammonimento qualsiasi Che il Signore fa Stolto nella scrittura Nel linguaggio biblico semitico È colui che sostanzialmente Non vive alla luce della parola Stolto non è semplicemente Un sinonimo di stupido Lo stolto è colui che Non ha come cardine del proprio vivere La parola di Dio A differenza del saggio Del sapiente Che è colui che Ascolta la parola E che la vive Dunque La domanda finale di Gesù È per ognuno di noi Quello che hai preparato Di chi sarà? Se questa notte stessa ci venisse chiesta la nostra vita Come siamo messi? Non tanto con i beni Ma con i conti in sospeso Con gli altri Con un amore non donato Con un perdono non offerto Con Tu sai che cosa c'è di sospeso nella tua vita Quello che hai preparato Di chi sarà? La parola non è mai per farci paura Anche queste parole nude e crude È una parola per risvegliarci Dal torpore Dall'abitudine Da una vita piatta Staccata totalmente Dal Signore Quante volte siamo schizofrenici spiritualmente La mia vita da una parte La vita di fede dall'altra No, non si ragiona così La mia vita e la mia fede sono un tutt'uno Vivere una vita alla luce della fede del Signore Gesù Solamente l'amore È ciò che può dare qualità e spessore alla vita Solamente l'amore È ciò che collega Di qua e di là L'ora e il per sempre L'ora e il per sempre L'ora e il per sempre Grazie a tutti.